Mi auguro che invece questa memoria ci faccia aprire gli occhi per capire che le mafie sono sempre nuove, sono come un motore di ricerca, cambiano i connotati, cambiano le sembianze, ma ciò che resta è il grande malaffare che fanno grazie alla pelle di tanta povera gente. No ad ogni forma di clientelismo salvaguardando la dignità del proprio voto ed attenzione perché le mafie sono sempre nuove, non c'è più la dinamite ma il tentativo di corruzione dei grandi poteri. Con un messaggio rivolto alle giovani generazioni, anche l'Irpinia ricorda la strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Nel dibattito promosso da Future Dem, Forum dei Giovani di Avellino e Rotaract si sono confrontati due volti simbolo della lotta alle mafie, il procuratore della Repubblica di Avellino, Rosario Cantelmo e il referente di Libera Campania, Don Tonino Palmese. È cambiato qualcosa anche nel rapporto tra criminalità e istituzioni oppure quello che accadeva 30-25 anni fa accade ancora oggi? Forse in parte è cambiato il candidato proprio della mafia, in alcuni territori, sospendo il giudizio sulla Calabria per esempio dove il problema è ancora più grave, in alcuni territori probabilmente non c'è più il candidato di riferimento, però c'è l'area politico-culturale di riferimento al quale poi i mafiosi possono far capo e determinare ciò che a loro interessa. Si individua quest'area politica e culturale? Se io lo sapesse avremmo risolto il problema, però bisognerebbe capire chi è corrotto e chi no.